Colonia e Torino non avevano interessi di classifica, anche se fa una certa impressione questa sera leggere il nome del Toro nella seconda metà del tabellone. Ma erano molti i motivi che davano un certo sapore al confronto. Le storie di Radice, Bullo, Pileggido, Sene, Garritano si sono intrecciate per qualche tempo con quella del Torino. Forse non c'erano rivendicazioni precise sul tappeto, ma da parte dei cinque ex Granata almeno la voglia di ben figurare. Nonostante tutte le voci di smobilitazione che circolano sul suo conto, questo Bologna però continua a giocare. Undicesimo del secondo tempo. Il gol di Dossena nasce dalla rovesciata di Garritano. Il tiro è molto bene. Rivediamo al rallentatore. La rovesciata di Garritano...